come vi dicevo nell'ultimo video oggi parliamo in maniera un po complessiva della stagione dell'atalanta da questo agosto fino ad oggi e lo faremo in una maniera un po particolare ovvero fingeremo di trovarci in conferenza stampa e davanti magari a Sartori e Gasperini faremo delle domande ovviamente non abbiamo noi le risposte però penso che questo modo può essere interessante anche soprattutto per confrontarci fra di noi per rispondere per mettere davanti dei temi ma magari sperare che qualche giornalista che frequenta il sito che vede i miei video prenda coraggio e ponga le domande giuste alla dirigenza la prima domanda che vorrei porre è possibile che aver anticipato di una settimana la preparazione aver svolto qualche incontro quest'estate abbia condizionato così tanto la forma fisica della squadra ad arrivare a recuperare una forma ottimale solo a ottobre quindi possibile che le prestazioni deludenti da un punto di vista fisico che volendo essere onesti non è nemmeno del tutto recuperato però insomma l'ultima partita quantomeno abbiamo toccato degli standard accettabili possibile che tutto questo sia dovuto alla preparazione e ai preliminari d'Europa League la seconda domanda che faccio è premesso che secondo me non può essere solo una questione di forma quanto è inciso il fatto di essere andati a comprare i giocatori fondamentali per questa annata a stagione iniziata o addirittura ridosso dalla chiusura del mercato d'altronde sapevamo serviva un difensore sapevamo serviva un incursore sapevamo serviva una punta quindi quanto è inciso il fatto di essere andati a prenderli così in corsa di non aver pianificato e soprattutto perché non è stato pianificata una campagna acquisti tranquilla da questa primavera in avanti visto che sapevamo già quasi tutti i movimenti che sarebbero successi in uscita la terza domanda che voglio fare è al netto di tutte le dichiarazioni che vengono fatte chi ha fatto realmente il mercato e con chi ha fatto intendo chi ha individuato i profili chi ha selezionato i giocatori perché vedendo in campo i nuovi l'idea che mi sono fatto è che Gasperini di alcuni di loro non sappia proprio cosa farsene io penso a Pasalic che ha comprato con tanta insistenza per poi non riuscire a trovargli una collocazione penso all'acquisto di Zapata un giocatore notoriamente comunque grosso che quindi fa fatica a recuperare la forma e poi alle lamentele sul fatto che ci mette tanto a entrare in condizione fisica penso all'acquisto di Reca e poi alle lamentele del fatto che il ragazzo parla solo polacco e che quindi non riesce a inserirsi nel gruppo quindi chi ha fatto questi acquisti? con tutta onestà e li ha fatti pensando alla squadra di oggi o pensando che potevano essere dei giocatori che succedesse qualsiasi cosa possono sempre tornare utili ad Atalanta la quarta domanda che voglio fare è quanto è inciso soprattutto nell'umore dei giocatori la sconfitta del Copenaghen e l'uscita dalla Coppa è una domanda un po' particolare però io ho la netta sensazione che alcuni giocatori avessero proprio come unico stimolo la partecipazione in Europa League quanto può un giocatore professionista farsi condizionare al punto da perdere le motivazioni e iniziare poi a affrontare il campionato una volta usciti dalla Coppa in maniera un po' non dico svogliata ma quanto meno poco concentrata andando nello specifico sui reparti la quinta domanda che voglio fare è sulla difesa premesso come ho già detto prima che sapevamo benissimo della partenza di Caldara è premesso che la difesa fino ad oggi non è stata sicuramente impenetrabile era veramente Varnier un giocatore che non ha mai giocato in serie A ma soltanto in serie B il prescelto per sostituire Caldara oppure si pensava che Mancini e Palomino potessero fare meglio il proprio compito tradotto siamo stati sfortunati perché il difensore su cui avevamo puntato si è infortunato o c'è stato un errore di valutazione nel considerare i due difensori centrali che non sono sicuramente malvagi ma non hanno le capacità di leadership di comando dalla difesa che aveva Caldara altra domanda tecnica e siamo alla sesta come mai i nostri esterni che a fine stagione scorsa sembravano aver capito pienamente il modulo e avevano fatto anche delle prestazioni veramente interessanti con le penetrazioni a fondi sul secondo palo adesso magicamente non riescono più a inserirsi nei moduli e nonostante la corsa nonostante tutto sembra dei pesci fuori d'acqua si tratta di un problema di condizione fisica o di incostanza e se si tratta di incostanza che quindi a quel punto era la stessa motivazione dei momenti bui dell'anno scorso come mai si è deciso di non intervenire? o meglio, e mi aggancio alla sesta domanda al netto che le ali erano un problema come mai si è deciso di intervenire comprando un polacco che sembra nessuno abbia mai richiesto e a Lia Danan che dopo una sola prestazione a mio avviso positiva è stato relegato in panchina la settima domanda mi aggancio ancora al tema delle ali al netto del fatto che i nostri esterni non sono delle ali complete quindi non riescono a difendere, scartare, crossare fare gli incursori aggredire il secondo palo tutto insieme non è forse opportuno smetterla di insistere con questo schema e magari trovare delle soluzioni che sfruttino i giocatori che invece di qualità ne hanno da vendere e che sono stati comprati appunto durante questa sessione di mercato perché si cerca sempre di far giocare la palla sui giocatori in difficoltà e non magari di valorizzare i giocatori più quotati che abbiamo in questa squadra l'ottava domanda che voglio fare è sui giovani in un'intervista di qualche anno fa Gasperini parlava del modello Bilbao e in un'altra intervista un po' più avanti ha parlato del fatto che non si può neanche far giocare soltanto giovani a detto di questo come mai l'Atalanta quest'anno ha comprato una serie di giovani ritenuti da tutti in maniera più o meno condivisa delle promesse quali Valzania, Pessino e Tuminello e questi non vedono il campo nonostante poi i titolari non è che facciano delle prestazioni così incredibili dobbiamo forse ricordarci che nell'ultimo momento di grande difficoltà che abbiamo avuto e parlo all'inizio della stazione di due anni fa fu proprio un cambio di questo tipo un cambio radicale a portarci poi a ottenere il miglior risultato della nostra storia come mai invece questa volta si insiste con i soliti si insiste con le stesse idee con gli stessi cambi c'è una convinzione per cui continuare a far rodare questo modulo prima o poi porterà gli ingranaggi a funzionare correttamente oppure c'è una mancata fiducia nei confronti dei nuovi acquisti e se c'è una mancata fiducia nei nuovi acquisti ripropongo la domanda iniziale perché sono stati comprati l'ultima domanda che voglio fare è una domanda di carattere più tecnico al netto che l'Atalanta oramai è un modulo che viene considerato prevedibile le squadre ci affrontano chiudendosi facendo ripartenze cercando comunque di non concederci troppo spazio come mai non viene proposto un modulo alternativo come mai non si vede una soluzione anche da mettere in corsa capace di spiazzare gli allenatori avversari che oggettivamente contro di noi non è che elaborano chissà che modulo ma si affidano a un buon vecchio catenaccio che oggi si potrebbe chiamare ciolismo cioè tutti dietro e poi si sale tutti insieme come mai noi scegliamo di non stravolgere il nostro modulo le nostre idee proprio per spiazzare e cercare l'effetto sorpresa l'ultima domanda che faccio è quanto può durare ancora questo periodo negativo e qual è la soglia entro la quale è necessario dare una svolta non solo per una fine di risultati perché poi nessuno di noi minimamente crede di poter retrocedere ma al fine di non danneggiare ulteriormente il morale cercando poi di arrivare più al dunque c'è il dovere di arrivare alla fine almeno di rialzare la classifica oppure si vuole fare un lavoro metodologico e quindi magari non preoccuparsi troppo della classifica ma lavorare sul gruppo per poi avere una macchina rodata da spendere anche per gli anni successivi io come al solito vi ringrazio mi piacerebbe molto leggere le vostre risposte e spero che questo format ci aiuti un po' tutti a fare un dibattito costruttivo perché la questione è molto difficile come al solito vi ringrazio se volete seguirmi su Instagram vi lascio il link oppure tranquillamente ci vediamo su atalantine.com ciao